Ad Acicatene è convocato per mercoledì prossimo il Consiglio Comunale. Lo ha deciso stamane la conferenza dei capigruppo convocata dal Presidente Salvo Finocchiaro. Una cosa è cessa, nemmeno mercoledì prossimo sarà discusso l'atteso regolamento sui chioschi. L'emendamento proposto dalla minoranza, primo firmatario Gianluca Grancagnolo, potrebbe essere integrato da un sub-emendamento a firma Giuseppe Aleo per garantire le richieste dei più giovani che potrebbero essere penalizzati dalla normativa regionale vigente, secondo cui a parità di punteggio andrebbe privilegiato il richiedente più anziano. In attesa che si definisca l'emendamento sotto l'aspetto tecnico, nella prossima seduta potrebbero essere esitati una serie di regolamenti, tra cui quello sulle aree di sgambamento per cani. Grazie. Grazie. Grazie.